Allora, prego. Queste sono tre casole donate da Sua Eccellenza a un signor salvatore Pernacchio, annunzio apostolico in Polonia. Bellissime. Si sta raffigurato il santo suba. Sì. Questo è il mio casole. Sono bello. Magnifica. Sì, per la congelebrazione, giustamente. Sì, sì, per la congelebrazione. Sì, per la congelebrazione. E che se ti dite per me? Poi quando è venuto qua, quando è venuto il sindaco di Sua Regno, mi ha regalato un'altra stola bellissima. È così. Andiamo avanti così, dai, il signore vuole che lo rodiamo, lo vede diciamo. Le casole donate un'idea. La carta vincente è il vostro entusiasmo, Don Catello. Sì, per la congelebrazione. Don Catello è il bubiscolo su cui si forma la cuccia, da cui proviscono la cuccia. Se non c'è il bubiscolo, non avremo la congelebrazione. Guarda che bella queste casole, diciamo. Non è un casole che è questo, non so che se vuole. Questa è la mozione pennacchio. Ti avevo fatto anche un video mentre ce la descriveva. Ti capisci? Eh, io rimango, capite? Ma proprio così, siete perché? Ma proprio perché questo è benzina per il vostro entusiasmo. Perché se arriva con il signore e porta il suo materiale… Grazie.